Questa mattina in Regione l'assessore alla formazione Loretta Bravi e il presidente di Italia Lavoro Paolo Reboani hanno presentato il progetto Botteghe di Mestiere dell'Innovazione. Le imprese marchigiane hanno tempo fino al prossimo 8 marzo per aderire a Botteghe di Mestiere, iniziativa che prevede a livello nazionale l'attivazione di 934 tirocini semestrali destinati all'inserimento lavorativo di giovani da 18 e 35 anni non compiuti. I tirocinanti riceveranno una borsa mensile di 500 euro lordi, erogata da Italia Lavoro, ma soprattutto avranno l'opportunità di specializzarsi nei principali comparti del Made in Italy. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di un ricambio generazionale, di riavvicinare le persone, non solo i giovani, ma anche over 20, over 30, ai vecchi mestieri. Perché noi siamo una regione che è nell'ottica di una internazionalizzazione, nell'ottica di uno svecchiamento, ma partendo dal recupero dei vecchi mestieri. Abbiamo una grande tradizione, il recupero dei mestieri significa avere dei maestri autorevoli, essere formati secondo quello che è il DNA delle piccole e medie industrie. Pensiamo al manifatturiero e da qui a cadere tutte le altre energie della nostra regione. I fondi sono nazionali e gestiti da Italia Lavoro. Il finanziamento è dato da 24 milioni a livello nazionale, gli obiettivi è quello di recuperare le produzioni caratteristiche del Made in Italy, inserendo giovani in realtà produttive importanti, come quelle anche delle marche.